Palla profonda adesso a cercare la corsa di Pucciarelli, il duello con Masina, riesce a metterla dentro, Maccarone! Tutto annullato però, è arrivato il fischio di Mariani a smorzare sul nascere, la gioia di Maccarone. Gran confusione però perché Maccarone si era fermato per un attimo. Invece no, è tutto regolare, doppietta di Maccarone al Dallara, si serve un altro Big Mac dopo tre minuti della ripresa. Doppietta per Maccarone dopo quella realizzata nello scorso turno al Carpi e l'Empoli è di nuovo davanti. Partita pazzesca al Dallara, questo è il lancio, Maccarone in posizione evidentemente irregolare, ma l'azione è dall'altro lato con Pucciarelli che riesce a mantenere l'equilibrio nonostante la spinta di Masina. Il cross è prima che la palla varchi la linea di fondo e a quel punto Maccarone torna in posizione utile per colpire di testa liberissimo sul secondo palo e realizzare la rete del terzo vantaggio. L'indicazione di Giallatini che dà l'ok per l'assegnazione del gol. Grazie. 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 Grazie.